Comunità generale di San Gisela, tra cui sono presenti Gisela e Antonio, guardate che la gente di Cielo non segna, non metterlo, non ammassano, non vede mai, e poi il Padre vostro ci resta in giro, non contate voi forse più di loro, e chi di voi è quanto si dia da fare e poi aggiungere un'ora sola per la vita? E perché? Vi ha parlato bene il vestito, osservate come crescono i cibi del campo, non lavorano nulla, eppure io dico che neanche ve lo voi, con tutta la sua gloria, vestito a voi nessuno di loro. Siete disposti ad amarevi per tutto il santo matrimonio? Siete disposti a accogliere come amore i figli di Dio che vorrà concedere? E quando il secondo la sua legge è del Vangelo? Grazie timeframe Cristina Sei la Gisella Io, Gisella, prendo tuo e l'alene Il sogno del mio amore e della mia judging di Dio nel nome del padre, del figlia e del peggio e del quello spirito santo Gisella.. sedia però per Cristo, buon Cristo, buon Cristo, per Cristo, buon Cristo, buon Cristo Padre, figlio e tutto il Santo andiamo in pace? E qui non ce l'ho, 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 quando scendo giù, volete fare la comunione, scendete male per il squadro, sì, magari domani, 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 ovvio, tanti tanti rallentamenti auguri, eh? Grazie